E' un po' a continuare a studiare. Tanti le sanno, lo faccio stessi. E' vostra figlia brava così in tutte le altre materie. Parlate con vostro marito, fatelo ragionare. Perché ha visto la storia solita che è pure femmina. Perché ci provano loro. Va a parlare con me, se il fratello è riuscito a doverlo. Rina, ma basta! E' capito che... E' basta! E' questa cosa in la scuola mente, non la voglio sentire più! Elena! Scena io vengo poco. Ma vengo. Che le che fai tu o faccio io? Fu in quell'occasione che mi convinsi che niente potesse fermarla. E che anzi, ogni sua disobbedienza... Aveva sbocchi che per la meraviglia toglievano il fiato. Sono proprio contenta di vederti, Elena. Anche io. Anche io. Anche io. Grazie a tutti.